Ciao ragazzi e benvenuti nel ventiduesimo episodio della serie JavaScript. In questo breve video vediamo come creare dei metodi all'interno delle nostre classi. Perché se vi ricordate nel primo video delle classi in cui avevamo gli objects per i tre utenti, ognuno di quegli objects aveva due metodi, uno per il login e uno per il logout. Andiamo quindi a ricrearli in questa classe utente. Quindi andiamo nella nostra classe utente e specifichiamo i nuovi metodi fuori dal costruttore, che invece ci occupa solo delle properties. Qua possiamo dichiarare il primo metodo login, poi apriamo le parentesi tonde perché è un metodo, e poi le parentesi graffe, all'interno delle quali creiamo la logica del metodo. Quindi in questo caso vogliamo stampare sulla console il nome dell'utente e poi si è connesso. Quindi this.username, si è connesso. Come vedete abbiamo usato la keyword this per avere accesso alla property username, poi sotto questo metodo creiamo anche il secondo, ossia il metodo logout. Apriamo le solite parentesi graffe e questa volta stampiamo sulla console, quindi console.log, di nuovo this.username, virgola, si è disconnesso. Ok bene, ora abbiamo ricarato esattamente gli objects che avevamo negli scorsi video, però in una classe, che ci permette di essere più modulare e scrivere meno codice. Per richiamare questi metodi ovviamente dobbiamo specificare il nome dell'istanza della classe, quindi qua sotto ad esempio utente1, poi punto, e il nome del metodo, ad esempio login. Quindi per l'utente1 richiamiamo il login. Ora salviamo il codice. Quando ricarichiamo la pagina vedete che ci viene stampato Mauro si è connesso, appunto perché l'username del primo utente è Mauro. Ora proviamo anche a richiamare il metodo logout dell'altro utente, quindi utente2.logout, in questo modo, punti virgola. Salviamo. Ricarichiamo la pagina. Ed ecco qua che abbiamo prima. Mauro si è connesso e successivamente Mario Rossi si è disconnesso. Bene, per qualsiasi dubbio o domanda lasciate un commento, mettete like al video per supportarlo con l'algoritmo di YouTube e noi ci vediamo nel prossimo video. Buongiorno. Buongiorno.